La legge per il controllo e l'eradicazione della specie nutria è esecutiva da oggi. È un problema che abbiamo affrontato 60 giorni fa appunto, perché il problema dell'eccessiva presenza della nutria crea delle grossissime difficoltà alla stabilità degli algini, piuttosto che anche all'equilibrio dell'ecosistema delle sponde acquatiche. Oggi è esecutiva, quindi adesso possiamo attendere con convenzione il piano di controllo che deve fare la Giunta regionale, che stabilirà i particolari. La legge stabiliva quali erano i soggetti che potevano tenersi alle norme per attuare l'applicazione delle eradicazioni, quali sono i metodi, quali sono i luoghi e i tempi. Noi crediamo che nel primo turno si possa essere attuativi con le province in capo a questa progettualità per far sì che ci sia un controllo completo della presenza di questa specie e ridurre tutte le conseguenze che la presenza eccessiva ha creato sul territorio.